I carabinieri la stavano cercando già da alcune ore, poi durante la notte si è presentata lei stessa in caserma per fornire ai militari la sua versione dei fatti. Si è costituita la responsabile della sparatoria venuta nella tarda serata di ieri tra via Crispi e via Costantino a Bari nel cuore del quartiere Libertà. Si tratta di una 31enne barese Concetta Mininni già nota alle forze dell'ordine, arrestata con le accuse di lesioni personali aggravate e detenzioni illegale di armi e munizioni. La donna ha ferito con un colpo di pistola il suo ex compagno, un 35enne, con tutta probabilità al culmine di quello che è stato l'ennesimo litigio tra i due. È stata la stessa vittima, sanguinante, a telefonare ai carabinieri per raccontare l'accaduto facendo il nome della sua ex fidanzata, fuggita subito dopo aver sparato. L'uomo, ferito di striscio al gluteo sinistro, è stato trasportato in ospedale dove è stato medicato. In base a quanto ricostruito dai militari, la coppia aveva a lungo vissuto una relazione sentimentale tumultuosa fatta di continui litigi. cuore da l'innovatore, la coppia aveva un'occhiata che sta trattando un'occhiata, mentre la coppia aveva una cosa, spiegare la coppia aveva un'occhiata, e la coppia aveva un'occhiata, in base a un'occhiata, che è stato trattato in ospedale. Grazie.